Un saluto dagli studi di Telegarda a Trentino. Oggi 9 marzo 2014 si sono svolte ad arco le elezioni comunali e noi abbiamo voluto sperimentare gli exit pool. Abbiamo chiesto agli elettori all'uscita dei seggi di indicare in forma anonima la loro preferenza di sindaco e di partito su un facsimile di scheda elettorale che è stata depositata in una scatola sigillata. Abbiamo ospite il giornalista Gianluca Marcolini che commenterà a caldo i risultati che abbiamo elaborato. Abbiamo raccolto i dati di 771 elettori e questo dovrebbe permetterci di fornire dei dati piuttosto precisi e attendibili e quindi di anticipare con un po' di anticipo i risultati ufficiali. Ma ecco la schermata delle nostre previsioni. Come vedete andando in ordine di scheda elettorale Giovanni Rullo ha ricevuto il 9,21%, Claudio del Fabbro l'8,17%, Virginia Buoninsegna della Lega Nord 3,24%, Andrea Ravagni il 12,97%. Ma il risultato importante è che Alessandro Betta secondo le nostre previsioni e le nostre statistiche dovrebbe essere il candidato sindaco vincitore avendo ricevuto il 66,41%, suddiviso nelle liste che lo hanno sostenuto nella civica con Betta e il Garda Trentino al 16,47%, Arco Bene Comune il 6,10%, Unione per il Trentino il 9,99%, il Partito Democratico il 20,10% e il Partito Autonomista Trentino Tirolese il 13,75%. Allora Gianluca cosa ne pensi di questi risultati? Il dato che emerge con maggiore chiarezza è sicuramente la vittoria di Alessandro Betta ma una vittoria schiacciante perché con il 66% dei voti dà sicuramente un significato importante alla sua corsa, alla sua campagna elettorale, forse anche molto più delle aspettative che aveva all'inizio della campagna. Dentro nella sua coalizione forse il vero dato che emerge con grande prepotenza è sicuramente la tenuta del PD che rimane su livelli delle comunali passate e anche se con una certa flessione rispetto alle provinciali ma comunque tiene. La vera grande sorpresa di queste previsioni che poi dovranno essere confermate dallo spoglio che avverrà nella mattinata del lunedì è sicuramente la civica con Betta che raggiunge un risultato assolutamente di rilievo. Il 16% è molto più di quanto si poteva prevedere all'inizio di questa tornata e soprattutto supera di gran lunga perché supera di quasi 4 punti percentuali il PAT che non nascondeva mire di primato e quindi per il partito di Mauro Ottobre se questi dati dovessero venire confermati ci sarà molto su cui riflettere e probabilmente anche oltre che riflettere. E poi abbiamo un Andrea Ravagni al 12,97% cosa ne pensi? Andrea Ravagni è sicuramente il primo degli sconfitti che era il risultato cui il giovane consigliere comunale uscente ambiva in subordine a quello naturalmente di diventare il sindaco di Arco. Ora per lui si aprono le porte del consiglio da leader dell'opposizione e sicuramente come l'interlocutore del sindaco chiaramente prendendo con i benefici dell'inventario del sindaco Betta da lunedì in poi. Il risultato test per il Movimento 5 Stelle di Giovanni Rullo a 9,21 mi sembra importante? È importante anche se però loro lo hanno dichiarato ufficialmente in vari contesti anche in diversi forum con i giornali quotidiani locali. Loro puntavano a mantenere l'11% che hanno raccolto alle provinciali. Ciò non è successo però chiaramente non si può parlare assolutamente di flop, anzi può essere sicuramente un punto di partenza per un percorso lungo e sicuramente fruttuoso. E per ultimi abbiamo un Claudio del Fabbro all'8,17% e Virginia Buoninsegna al 3,24%. Cosa ne pensi di questi dati? Sicuramente loro hanno ben poco da gioire sempre che questi dati poi dovessero trovare conferma perché del Fabbro va a dimezzare i voti che aveva preso nel 2010 il Tamburini anche se però poteva contare su una coalizione decisamente più ampia. Buoninsegna invece ha sicuramente qualche pericolo di non riuscire ad entrare in consiglio comunale perché con il 3,24% non è sufficiente per poter conquistare un seggio. Va bene, allora riconfermo che i dati che abbiamo raccolto sono relativi a 771 elettori e abbiamo raccolto i dati a Bolognano, Massone, Arco, Centro e Romarzollo. Sperando di aver suscitato la vostra curiosità vi mandiamo un saluto e arrivederci alla prossima.